io sono un principe non posso aver perso blug blug sta succedendo qualcosa no cosa dici mario stanno solo bombardando il castello non ti preoccupare scusate l'ami più del braccio oh oh mi sa che ci sono un po' di alieni mario la smetti di sparare cavolate allora andiamo avanti nella storia fino al regno dei funghi il famoso professor strambi che ha ultimato la macchina del tampi la fonte di legno della macchina la stella cubolt sentite non ci voglio fare il walltrod quindi beh va bene la sua presentazione è tenuta che sono accosti i luminari da mezzo mondo solo metà l'altra metà è morta secondo il racconto dei presenti la principessa Peac era esforica tanto che è partita immediatamente per il regno dei fanghi del passato no scusate il regno di bunga bunga naturalmente ma strutturata è fuori di seda la precchia pazzana droga gli attenti nell'edizione delle onze non lo so basta pelare non ce l'hai? invia un lg prissipesso mamma mia sono un po' di meno la preoccupazione l'emozione non ti preoccupare la mia macchina è sicurissima sarà sicura 9 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 10 10 9 10 10 10 10 10 12 13 13 14 14 15 15 15 e c'è nato di quarti puoi andare a pranzare? no vado a pranzare adesso e che vuole una bella vista aerea in un castello di Pea zanga 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 mario e fui e il rivital fungo si trova qui nella stanza di Mastroteodon tu adelli ah tra i frotti bistecco una mostra alla posizionale di morto questa qua che salta questa scema qua la bistecca si e l'icona resta ferma si si muove all'interno di una cacca mentre si si muove all'interno di un tubo oppure in un'altra stanza l'icona si sposta vedi sta saltando come non so cosa mario come sta andando così veloce vabbè se ti perdi uno sta qui dove andare guarda lo schermo inferiore vedrete sei solo Strambic dai allarga allarga lo schermo dove è Strambic? è morto Strambic fai la voce di logica per Strambic bene Mario bene Mario contiamo su di me oh yeah evita fungo in un blocco nella stanza di Mastroteodelli non puoi errare ma solo mangiare per farlo uscire vai salta al blocco e vai a Malta di solito funziona come te la carico con i con i con le pirouette e l'uccisore di Goomba? fai vedere questo è un saldo non è l'uccisore di Goomba per piacere per piacere quando vai vicino al Toad per piacere non fare il saldo fai l'uccisore di Goomba questo non è un Toad è una scarca però niente male ma come vedi le mani? è sbagliata vabbè bravo in bocca al culo ah ma devo andare è il momento di muovere Mario bisogna assolutamente parlare con tutti parla con il professore se stai fermo su quanti mani devo fare due mani quindi la signora che mi tiene il telefono no mi tiene l'oxilofono mi tiene l'oxilofono si ok ho trovato un assessorato parla con Strambic non preoccuparti sta zitto non preoccuparti tornerà nel cielo sicuro al 99,999999999999% per abusirti no non era così no no prima avevo un'altra voce troverai tu non è la casa del maestro Toadetti brighati vai a pranzo teppero tu non può avere fronto che assumptions guarda vedo chits ou nel vegging aran la cittara la cittara lo mi lav toccano .... principessa 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 basta, basta principessa, basta principessa, una mole per principessa, vuoi una momma ok quindi guardando la mappa ci accorgiamo che se Mario è qua è qua, no è qua, usa Mario è qua, deve andare dal fungo, ripita il fungo che si trova qua, come potete vedere, quindi basta andare in basso l'estero, a sinistra, basta a sinistra ah, giusto, devo incontrare Mario e io ti dà le palle, e vieni, c'è la voglia pura, ciavatta saltare, basta colpire un album di salvataggio, ah non per saltare, per salvare, ma questo è un album, a me sembra più un album fotografico, però potrai sempre saltare, oppure uccisore invece di saltare, fare l'uccisione di Goomba vai avanti uccisiamo Goomba no bene, quindi salvando finisce la seconda parte del Voltorb di salvare e proseguire nel Voltorb di Mario e Luigi, fratelli nella cacca, nel tempio, nel tempio, intanto inquadriamo finché salva la mamma di Mario la mamma di Mario DG speciale no, si vede un tubo ah, è vero che si incastra con lo salvataggio, quindi bisogna spiattare, ma dobbiamo fermare ah, vi vediamo farà, un sito, un sito